Burioni, il coronavirus non entrerà in Italia a 35.000 morti, gente che non capisce niente. Cominciamo a cambiare il comitato tecnico scientifico, mettiamo persone preparate. Allora Villanova, poi Panfiglio, poi ovviamente anche Giacomo, prego. Io mi trovo in particolare imbarazzo sentire queste cose che ho appena sentito pronunciare. Intanto chiedo se sta parlando seriamente oppure no. Sto parlando seriamente perché sto girando le piazze mentre lei sta qui. Io sto girando tutta l'Italia. Mentre lei sta qui io giro tutta l'Italia. Lei è qui con me in questo momento. In questo momento lei è qui con me. Non è in giro per le piazze, è qui con me in questo momento. E io le sto chiedendo se lei sta in serio mentre dice quello che ha appena detto. Ma lei è una persona seria? Ha da fare una formazione di questo genere? Io la sto offendendo. Io sono un medico. La sto offendendo perché lei non è serio. Io le ho fatto una domanda. Lei è una persona seria? Signor Bappalato. Vede che attaccano. Vede che io me ne vado perché non posso lavorare con questa gentaglia che ti attacca sul piano personale. Lei è una persona seria? Ma no, ma si siede. No, 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 io me ne vado. Non posso stare con un cialtrone come questo. Io sto facendo discorsi a carattereggione in generale e dice se sono sei. Ma se ne va. Ma vada a salvare. C'è il diritto. Vada a fare il politico. Io sono stato generale dell'arma. Io ho dato la vita per la mia paese. Lei ha fatto il buco. Lei non ha dato la vita proprio per niente perché lei è qua. Vada a continuare a fare il confone. Ma resti qui che ci divertiamo un po'. Vada a continuare a fare il confone. Vale.